Musica Zagarella, ispezione negli enti di formazione, episodi poco chiari. Cani randaggi in via 25 Aprile, il comune è intervenuto questa mattina. Iniziata la demolizione del palazzo pericolante in via Abba nel quartiere Provvidenza. Denunciato 56enne nisseno, promessa denuncia di trasferimento di arma regolarmente detenuta. La finanza di Caltanissetta sequestra merce a 5 ambulanti a Pian del Lago. E sempre la finanza scopre un deposito abusivo di bombole GPL a Riesi. A tra poco. Benvenuti ad una nuova edizione di TCS News. Sentiamo l'intervista ad Alberto Zagarella, segretario Cobas, che chiede l'ispezione negli enti di formazione siciliani. Il perché. Alberto Zagarella, segretario provinciale Cobas Formazione, chiede un'ispezione negli enti di formazione siciliani. Perché? Cosa accade attualmente in questi enti? Sì, dici bene e chiede un'ispezione. Allora, ad oggi abbiamo una situazione paradossale. Siamo proprio entrati nell'assurdo. Dove io vorrei ricordare che la parola sindacato o chi fa sindacato nasce per essere d'opposizione a quella che è qualsiasi scelta del datore di lavoro. Oggi noi all'interno della formazione abbiamo il ridicolo. Dove i sindacati gestiscono enti di formazione e nessuno dice o fa nulla. Lavoratori che si sostituiscono a quella che è la responsabilità dei datori di lavoro o chi praticamente negli anni ha fatto i propri imperi. Cioè in pratica il datore di lavoro fa diventare titolare un suo dipendente? Perché? Come avviene? Sì, certo. Creando delle nomine fantascientifiche che sono i surreali e facendo delle società interne a quelli che sono gli enti di formazione. Un esempio, un qualsiasi dipendente, dal scribacchino al tutor all'insegnante può diventare presidente o direttore di un ente di formazione mettendosi, come si suol dire, il ferro dietro la porta. Ma la cosa più ridicola non è questa. La cosa più ridicola è che noi oggi assistiamo a dei datori di lavoro che denunciano la regione Sicilia, l'assessorato o chiunque tutto il sistema per recuperare dei crediti che loro stessi dovrebbero già dare ai laboratori. Questo grazie a cosa? Il fatto è che non vi siano mai stati fatti dei controlli veri all'interno di tutti gli enti di formazione. Noi oggi abbiamo figure del tipo avvocati, professori, professionisti in genere che esercitano la propria professione all'interno degli enti di formazione. Quindi da una parte abbiamo la forma lavoratore, quindi colui che vande i crediti. Dall'altra parte abbiamo lo stesso lavoratore che si autodifende soffrendo della propria professione. Prima mi dicevi che il datore di lavoro fa diventare titolare un impiegato e dopodiché lo stesso datore di lavoro fa anche l'avvertenza all'ex impiegato diventato titolare, si licenzi, fa licenziare e ottiene anche la disoccupazione. Sì, l'hai detto bene, sintetica ma benissimo. Il paradossale è questo, il paradossale è che alcuni lavoratori, oltre ad essere proprio al baratro, quindi alla rovina totale perché capite bene, un lavoratore che non percepisce il proprio salario ma non reddito da due o tre anni significa un grosso deficit per sé e per la propria famiglia. Ma la cosa ridicola è che il datore di lavoro, trasformatosi, il lavoratore chiede i danni, chiede gli stipendi, cioè non li dà ma li chiede. Ma perché il lavoratore accetta di diventare titolare e quindi di mettere anche delle garanzie? Ebbè qua sfondiamo una porta che penso che sia oramai aperta da tempo ma nessuno denuncia, il famoso ricatto, un ricatto vero e proprio perché o così o altrimenti entri tre lavoratori scomodi quindi il primo di uscire dalla porta sarai tu. Ma tu come hai scoperto queste cose? Io come tanti sapranno sto vivendo un periodo particolare dovuto a problematiche mie personali di salute e questo è il perché non posso togliere il berretto in questo momento e succede che avendo avuto da poco il CUD o avendo fatto gli accertamenti su me stesso vedo che ci sono delle difformità su tutto quello che è le garanzie del lavoratore, su tutto quello che è agenzia e le entrate, su tutto quello che è il sistema che ogni singolo lavoratore ha all'interno del proprio ente di formazione. Perché ricordiamo, è giusto ricordarlo, tu sei un dipendente pure della formazione professionale. Sì, se così si può chiamare uno che non percepisce stipendi, sì io sono un dipendente, una volta si diceva che esisteva il ministro senza portafoglio, oggi la cosa più ridicola in Sicilia è il lavoratore senza stipendio ma tassato. Quindi tu attraverso queste carte che dovevi sbrigare per i tuoi problemi di salute ti sei accorto di questa anomalia? Certo, ma la cosa che fa sorridere, buttiamola così sull'ironia, è che dico se me ne accorgo io da lavoratore, vero sì, sindacalista, ma le forze di competenza, chi realmente dovrebbe controllare questi enti, dove stanno? Perché ricordo tutti che comunque la regione Sicilia ha di bisogno determinate garanzie. Noi su Caltanissetta abbiamo tutti gli organi di controllo che sono addetti a queste competenze, tipo le forze dell'ordine come polizia, carabinieri, guardia di finanza, ispettorato del lavoro, gli uffici provinciali del lavoro. Ho la netta sensazione, come si vuol dire, che tutti vediamo il treno che passa ma nessuno lo vuole prendere. Cani Randaggi in via 25 Aprile a Caltanissetta. Il Comune è intervenuto questa mattina dopo le segnalazioni della scorsa settimana. Ci troviamo in via 25 Aprile a Caltanissetta. La scorsa settimana abbiamo realizzato qui un SOS. Ci ha chiamato il signor Castellana che abita in questo palazzo a fianco. La moglie era stata aggredita da un branco di cani Randaggi. Aveva riportato la frattura al dito e diverse ferite di denti alla gampa. Tutto refertato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Qui i residenti lamentano la presenza del brango di cani Randaggi. Alcuni anziani sono stati pure aggrediti. Hanno paura, soprattutto adesso con le belle giornate che arriveranno a scendere qui fuori a prendere aria la sera. Hanno paura per i nipotini che giocano qua davanti. Il comune ha provveduto. Questa mattina c'è la Calapiacani, così come viene giustamente definito. È stata montata questa gabbia. All'interno della gabbia c'è del cibo, della carne cruda messa in delle vaschette, come potete notare dalle immagini. Una corda attaccata al cancelletto che chiude la gabbia. L'altra parte della fune ce l'ha in mano l'operaio dentro il furgoncino. Appena i cani entrano a mangiare, l'operaio chiude la gabbia. I cani vengono presi e portati al canile municipale. Anche se però c'è stato fatto notare che è la terza volta che questi stessi cani vengono accalappiati e rimessi poi per strada. Quindi non si sa se ci sarà la quarta volta. E hanno preso il via le demolizioni del palazzo pericolante in via Abba nel quartiere Provvidenza. I residenti comunque temono ancora fino a quando il palazzo non verrà completamente buttato giù. Ci troviamo nel quartiere Provvidenza a Caltanissetta per l'esattezza in via Cesare Abba numero 11. Come ricorderete qui abbiamo realizzato diversi SOS TCS con i residenti della zona. Questo palazzo pericolante aveva iniziato a perdere dei calcinacci dal tetto. Il comune, l'ufficio tecnico aveva provveduto a puntellare le pareti e a transennare le pareti del palazzo. Però i residenti si lamentavano dicendo che il problema stava nel tetto perché quello che crollava era appunto il tetto. Il comune ha rintracciato i proprietari che stanno provvedendo ai lavori. Ci fa piacere notare che parte del tetto pericolante è stato fatto crollare dagli operai quindi senza nessun pericolo. A giugno dovrebbe essere abbattuto l'intero stabile. Ricordiamo che i residenti comunque vivono ancora nella paura perché l'arrestante parte potrebbe crollare da un momento all'altro. Comunque hanno assicurato che entro giugno il pericolo dovrebbe essere tolto. Siamo però a maggio. Qui oggi non vediamo nessun operaio. Quindi ci auguriamo che questi lavori vengano portati a termine il più presto possibile. Denunciato 56enne nisseno per omessa denuncia di trasferimento di arma regolarmente detenuta. Sentiamo. Trasloca la pistola regolarmente detenuta da un posto all'altro ma non avvisa la questura. E inoltre non aveva presentato in tempo il certificato medico entro i termini previsti. Dimenticanze costate care ad un nisseno di 56 anni che è stato denunciato dalla polizia di Caltanissetta per omessa denuncia di trasferimento di arma regolarmente detenuta. Il controllo è emerso per caso quando gli agenti della sezione volanti nel corso di un posto di blocco nei giorni scorsi hanno proceduto al fermo di un'autovettura che transitava in viale della regione. Dal controllo eseguito dagli agenti attraverso il database del Ministero dell'Interno il conducente, un 56enne nisseno, risultava da rintracciare perché possessore di una pistola marca Glock regolarmente detenuta e non aveva presentato idoneo certificato medico entro i termini di legge previsti dalla normativa vigente. Per tale ragione l'arma era da consegnare all'autorità di pubblica sicurezza per mancanza di certificazione medica di idoneità per la detenzione. Da un ulteriore controllo emergeva che l'arma non era più custodita nel luogo originario di residenza dell'uomo ma che da qualche mese era stata spostata presso un'altra abitazione che dello spostamento non era stata avvisata la questura. Per questo motivo i poliziotti hanno sequestrato la pistola e denunciato l'uomo per il reato di omessa denuncia di trasferimento di arma regolarmente detenuta. La questura informa che il 4 maggio 2015 è scaduto il termine per coloro i quali detengono armi per presentare il certificato medico di idoneità psicofisica alla detenzione all'ufficio armi della questura di Caltanissetta. Molti si sono già messi in regola, altri ancora non hanno temperato entro i termini previsti. E l'ufficio armi della questura ha proceduto ad inserire i loro nominativi presso il CED Interforze al fine di procedere al loro rintraccio e ritirare le armi. La Polizia di Stato, in relazione al certificato medico, ricorda i possessori di armi che si tratta dello stesso certificato richiesto per il rilascio del nulla osta all'acquisto previsto dall'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La certificazione da produrre deve attestare che il richiedente non sia affetto da malattie mentali oppure patologie che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere anche occasionalmente sostanze stupefacenti e psicotrope oppure abusare di alcol. Il certificato medico in questione è rilasciato dagli uffici medico-legale o dai distretti sanitari delle ASP o dalle strutture sanitarie e militari e della Polizia di Stato. Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico rilasciato dal medico di fiducia, di data non anteriore a tre mesi. Il medico accertatore potrà richiedere, laddove ritenuto necessario, ulteriori specifici esami o visite specialistiche, che saranno effettuati presso strutture pubbliche. Sono esentati dall'obbligo di presentazione coloro che, nei sei anni antecedenti, l'entrata in vigore del decreto, abbiano già consegnato il certificato al momento della richiesta di una licenza di porto d'armi o di un nulla osta all'acquisto di armi. Nel caso in cui il detentore non voglia più la disponibilità dell'arma e non trovi una persona idonea a cui cederla, anche a titolo gratuito, potrà procedere alla disattivazione rivolgendosi ad un armaiolo che renderà l'arma inutilizzabile, attestandone l'inutilizzabilità. Oppure potrà chiedere la rottamazione agli uffici di polizia e arma dei carabinieri. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza agli arresti domiciliari per nove indagati accusati di fare parte di un gruppo con base a Villarosa, Enna, dedito allo spaccio di droga. I destinatari sono Giuseppe Indelicato, 28 anni, fratelli gemelli Luigi e Michele Sarra Minichello, 23, Angelo Stagno, 20 anni, Carmelo Paterno, 23, Giuseppe Burgarello, 26, Paolo Tittito, 20, Santo Bencivini, 32, Salvatore Fiandaca, 28. A quest'ultimo il provvedimento è stato notificato in carcere dove era già detenuto. Al centro dell'operazione Black Ship, indagini avviate dal commissariato di Nicosia nel 2014 sull'approvvigionamento e lo spaccio di droga a Villarosa. Gli indagati usavano un linguaggio criptico quando parlavano di affari, facendo riferimento a motorini o testata e cilindro per parlare di tipo e quantità di droga da vendere, acquistare o trasportare. La presenza di agenti era segnalata con una frase standard «Ci sono i cani, quelli buoni di fuori». La finanza sequestra merce a cinque ambulanti a Pian del Lago a Caltanissetta. Blizz della Guardia di Finanza di Caltanissetta al mercatino del sabato di Pian del Lago tra le bancarelle infatti sono stati eseguiti controlli in occasione del mercato settimanale di Caltanissetta che hanno portato alla segnalazione alla procura di cinque ambulanti nonché il sequestro di 208 calzature contraffatte delle note griffe nazionali e internazionali, 275 cd musicali e 332 dvd film masterizzati. La commercializzazione della merce sequestrata, oltre a causare una sleale concorrenza sul mercato, provoca, poiché è sprovvista dei requisiti di sicurezza, pericoli per l'incolumità e la salute degli utilizzatori in quanto realizzata con materiali e tinture non testate. Durante i servizi di controllo nell'ambito del piano cosiddetto Trinacria i militari hanno fermato un veicolo con a bordo un italiano accompagnato da due donne di origine rumena, già note alle forze di polizia per l'esercizio dell'attività di prostituzione. Una di queste era stata raggiunta da foglio di via obbligatorio per tre anni. I finanziari hanno provveduto a denunciare la donna all'autorità giudiziaria per violazione della misura suddetta di polizia. Deposito abusivo di bombole GPL scoperto dalla Guardia di Finanza a Riesi. Le fiamme gialle del comando provinciale di Caltanissetta continuano l'attività di tutela e di controllo del territorio. Nella rete dei finanzieri è finito un commerciante di Riesi, titolare di una ditta individuale che, privo di ogni autorizzazione, aveva accumulato in un deposito abusivo per la commercializzazione 435 kg di GPL in bombole da 15 kg. L'uomo è stato segnalato perché è sprovvisto sia della licenza che del certificato di prevenzione incendi. Santo Burgi è il nuovo presidente provinciale delle Acli. Eletto all'unanimità dal Consiglio provinciale di Caltanissetta, riunitosi nei giorni scorsi, Burgi va a sostituire Stefano Parisi, che da qualche settimana ricopre già l'incarico di presidente regionale. Ex segretario provinciale della FAP, Federazione Anziani e Pensionati delle Acli, e attuale consigliere regionale delle Acli, Santo Burgi sarà affiancato dagli altri componenti della presidenza provinciale. Italo Calafiore, Barbara Verdone, Valeria Lipani, Giuseppe Trigona, Rocco Trainito, Nicola Sposito e Giovanni Bunoni. Prosegue la programmazione delle visite guidate relativa all'iniziativa Scoprire e riscoprire Caltanissetta 2016, organizzate dal Cral Giustizia a Caltanissetta, preseduto da Calogero Occhipinti, che ha ricevuto il patrocinio dell'assessorato Creatività e Cultura del Comune di Caltanissetta e della Proloco Nissena. Questa settimana è prevista la visita alla Chiesa della Madonna delle Grazie, dove si potrà ammirare il restauro della scalinata esterna e della facciata, nonché la cappella votiva della Madonna del Belvedere. La guida sarà il professor Vincenzo Falzone, che illustrerà la storia dei monumenti. Il motto dell'iniziativa è Conoscere la storia e le tradizioni della nostra città. Dovrebbe essere interesse di ogni nisseno, prima ancora di quella di conoscere quella delle altre città. L'appuntamento è alle ore 10 di domenica 8 maggio, davanti alla Chiesa della Madonna delle Grazie. La partecipazione è, come sempre, gratuita. E adesso la rubrica Salute, che oggi vi parlerà di guidatori a rischio. Pericolosi al volante perché ubriachi o perché amano la trasgressione, comunque recidivi e più volte causa di incidenti stradali. Ci sarebbe una personalità precisa e profili neurobiologici specifici dietro queste forme di guida pericolose che mettono a rischio la vita propria ed altrui. Ma una migliore comprensione dei processi inconsci e dei motivi di questi high-risk driver potrebbe fare la differenza, secondo una ricerca condotta dalla McGill University pubblicata su PLOS ONE. Lo studio ha esaminato uomini di età compresa tra i 19 e i 39 anni, un gruppo di persone con due o più condanne per guida in stato di ebrezza, un gruppo di persone fermate per eccesso di velocità, un gruppo che aveva avuto entrambe le problematiche e infine uno di controllo. I risultati hanno rivelato che ogni gruppo aveva un profilo emotivo e comportamentale distinto che risponde a diverse strategie di prevenzione. Per cambiare il comportamento di chi ama eccedere con la velocità potrebbe essere utile passare più tempo impegnati in attività stimolanti in un ambiente sicuro. E anche per oggi abbiamo concluso, vi lascio alla rubrica Salute e Benessere che oggi vi parlerà di meditazione. Grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima edizione. La terapia basata sulla meditazione ispirata al buddismo e il concetto di consapevolezza funziona come un farmaco antidepressivo. Lo sostiene uno studio dell'Università di Oxford e pubblicato sulla rivista JAMA Psychiatry. La terapia della consapevolezza consiste nell'allenare il cervello ad affrontare le emozioni negative usando tecniche come meditazione, esercizi respiratori e yoga. Anche se per alcuni questa tecnica può portare ad attacchi di panico, paranoia, delusioni e depressioni, secondo questo nuovo studio la terapia cognitiva basata sulla consapevolezza aiuta le persone allo stesso modo degli antidepressivi. Nella ricerca si è visto che le persone depresse che erano state trattate con questa terapia avevano il 31% di rischio in meno di avere una ricaduta nei 4 mesi successivi. La meditazione non è una panacea ma offre un nuovo approccio alle persone con una lunga storia di depressione che consente di sviluppare degli strumenti per stare bene nel lungo periodo. Ogni persona è diversa e richiede terapie differenti, continua e la meditazione è un'opzione insieme ai farmaci e ad altre forme di terapia. Servono comunque altri studi per ottenere tassi di recupero vicini al 100% e aiutare a prevenire la comparsa della prima depressione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!